Rimaniamo a Sanonà e parliamo ora di un'importante iniziativa partita poco prima delle festività natalizie, voluta, pensata, ideata dal Lions Club di Sanonà e per parlarne oggi in studio abbiamo proprio il presidente del Lions Club di Sanonà di Piave, Gianfranco Gallesso. Benvenuto Gianfranco. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per avermi. Allora, poco prima di Natale è partita questa importante iniziativa di solidarietà voluta dal Lions Club, secondo la quale ogni cittadino, ogni acquirente che si reca presso alcuni punti vendita di Sanonà di Piave potrà con poco contribuire a 5 grandi progetti. Vogliamo spiegare un po' di che cosa si tratta? Sì, benissimo. Allora, l'importante iniziativa che abbiamo lanciato prima di Natale si è destinata ad una raccolta di beneficenza per 5 grandi progetti dedicati al 90% per il territorio di Sanonà di Piave e che riguardano il banco alimentare nel senso dell'aiuto e sostegno alle famiglie che non arrivano a fine mese. Una parte sarà dedicata alla costruzione della scuola per la casa del girasole che è a sostegno dei ragazzi handicappati, il sostegno della violenza in casa sulle donne, il 10% importanti borse di studio per i migliori ragazzi diplomati nell'anno 2013-2014 e ultimo, ma non ultimo, l'aiuto al Lions Club International per la vaccinazione contro il morbillo nei paesi africani. Quindi 5 obiettivi davvero lodevoli, importanti che coprono sia il territorio e vanno anche fuori dal territorio. Come si può contribuire quindi alla raccolta fondi per queste iniziative? Noi abbiamo pensato a due precise modi di raccolta. Il primo riguarda una raccolta di solidarietà a basso costo, per cui ad ogni cittadino sandonatese è richiesto di donare un euro e per farlo lo può effettuare recandosi in tutti i negozi che hanno le famose mani colorate. Ricordiamo infatti che sono esposte per poter partecipare a questa iniziativa i negozi aderenti, le attività aderenti. I negozi del centro hanno per lo più aderito a questo... Una locandina riconoscibilissima con due mani colorate. E poi la seconda forma che è quella dedicata all'impresa e alle aziende attraverso un bonifico bancario i cui dati si possono rilevare sul sito di www.lionsclub.it e sulle locandine che presentano il progetto. Quindi chi vorrà contribuire a questa raccolta fondi? Come potrà farlo? Effettivamente entrando nel negozio che espone questa locandina dovrà chiedere qualcosa? Dovrà chiedere al titolare se è in possesso delle ricevute da un euro che noi abbiamo consegnato a circa 40 negozi nel centro e potrà donare da 1 a 10, 15, 20 euro e ricevere 20 ricevute, 5 ricevute o 10 ricevute che attesteranno la partecipazione a questo progetto. Ma non finisce qui, vero? No. Ci sono tantissime altre novità, c'è tempo fino a fine febbraio ma anche oltre per partecipare a questo tipo di iniziativa ma ce ne saranno altre, almeno due molto interessanti, vogliamo elencarle? Sì, allora diciamo che dopo le donazioni che sono richieste al territorio stiamo organizzando una serie di eventi che contribuiranno a sostenere l'importante iniziativa. Il primo fra tutti è un torneo di burraco che sarà organizzato il 23 di febbraio prossimo dove la Presidente dell'Associazione Asso, Marina Billotto, si è attivata in modo straordinario per creare un evento che sicuramente darà un contributo importante a questo progetto. Successivamente il 5 di aprile attraverso la Fondazione Terra d'Acqua che è il partner per l'eccellenza del progetto è stato invitato all'orchestra della Fenice per un importante concerto che si terrà presso il centro Leonardo da Vinci e il cui ricavato sarà sempre destinato al progetto San Dona Dona. Davvero, davvero tantissime iniziative lodevoli soprattutto per la finalità che vi siete posti. Io ringrazio il Presidente del Lions Club di San Dona di Piave per essere rimasto qui con noi e naturalmente mi auguro di averla nelle prossime puntate del nostro Tg per fare un po' il punto della situazione e anche vi segueremo per i prossimi eventi. Io ringrazio dell'invito, credo che occasioni di questo genere siano utili per sponsorizzare questo progetto importante. saluto tutti gli ascoltatori, buona serata e tante cose.